Grazie Grazie Questa è una delle camere dove saranno ospitati i migranti sbarcati dalla nave 18 Sono chiaramente delle camere che sono state allestite per l'emergenza però più che dignitose con il bagno, due letti per ogni camera con queste lenzuola a monouso perché ogni giorno vengono distribuite delle nuove e quindi diciamo che avranno la possibilità di stare serenamente anche se per pochi giorni in questo centro molto molto bello Quattro ore dedicate all'insegnamento delle classi di italiano Queste quattro ore sono divise, nelle quattro ore ci sono due lezioni al giorno una alla mattina e una al pomeriggio Questo l'ha scritto Fulcan, questa frase è bellissima in cui lui ha scritto Quando sarai bella io ti sposerò Con te la possiamo cancellare Io ti sposerò Questa frase è una frase che non avrà nessuna chance con le ragazze perché se tu la smetterai a dire una cosa del genere alle ragazze sicuramente non sarà possibile Questa frase è una frase che non avrà nessuna chance con le ragazze Era questa frase che non avrà nessuna chance con le ragazze Io ti sposerò